Pirandello, la prova. Vi parrà strano che io ora stia per fare entrare un orso in chiesa. Vi prego di lasciarmi fare perché non sono propriamente io. Per quanto stravagante e spregiudicato mi possa riconoscere, so il rispetto che si deve provare a una chiesa e una simile idea non mi sarebbe mai venuta in mente, ma è venuta a due giovani chierici del convento di Tovel, uno nativo di Tuenno e l'altro di Flavon, andati in montagna a salutare i loro parenti prima di partire missionari in Cina. Un orso, capirete, non entra in chiesa così per entrarci. Voglio dire, come se niente fosse, vi entra per un vero e proprio miracolo, come immaginarono questi due giovani chierici. Certo, per crederci bisognerebbe avere né più né meno della loro facile fede, ma convengo che niente è più difficile ad avere che simili cose facili. Per cui, se voi non l'avete, potete anche non crederci, e potete anche ridere, volendo di quest'orso che entra in chiesa perché Dio gli ha dato in carico di mettere alla prova il coraggio di due novelli missionari prima della loro partenza per la Cina. Ecco intanto l'orso davanti a quella chiesa, che solleva con la zampa il pesante coltrone di cuoio alla porta. E ora, un po' sperduto, ecco che si introduce nell'ombra e tra le panche in doppia fila della navata di mezzo si china a spiare e poi domanda con grazie alla prima beghina «Scusi, la sacristia?» È un orso che Dio ha voluto far degno del suo incarico e non vuole sbagliare. Ma anche la beghina non vuole interrompere la sua preghiera e stizzita più col cenno della mano che con la voce indica là, senza alzare la testa né levar gli occhi. Così non sa d'aver risposto a un orso, altrimenti chissà che strilli. L'orso non se ne ha a male. Va di là e domanda al sacristano «Scusi, Dio?» Il sacristano trasecola «Come, Dio?» E l'orso, stupito, apre le braccia «Non sta qui, di casa?» Quello non sa ancora credere ai suoi occhi tanto che esclama quasi in tono di domanda «Ma tu sei orso?» «Orso, già!» «Come mi vedi? Non mi sto mica dando per altro.» «Appunto!» «Orso, vuoi parlare con Dio?» «Allora l'orso non può fare a meno di guardarlo con compassione.» «Dovresti invece meravigliarti che sto parlando con te.» «Dio, per tua norma.» «Dio, per tua norma, parla con le bestie meglio che con gli uomini.» «Ma, ora, dimmi se conosci due giovani chierici che partono domani missionari in Cina.» «Li conosco. Uno è di Tuenno e l'altro di Flavon.» «Appunto.» «Sai che sono andati in montagna a salutare i loro parenti?» «E che devono rientrare in convento prima di sera.» «Lo so.» «E chi vuoi che mi abbia dato tutte queste informazioni, se non Dio?» «Ora, sappi che Dio vuol sottometterli a una prova e ne ha dato l'incarico a me e a un orsacchiotto, amico mio.» «Potrei dir figlio, ma... ma non lo dico perché noi bestie non riconosciamo più per nostri figli i nostri nati pervenuti a una certa età.» «Non vorrei sbagliare.» «Desidererai una descrizione più precisa dei due chierici, per non fare ad altri chierici innocenti una immeritata paura.» «La scena è qui rappresentata con una certa malizia che certo i due chierici, nell'immaginarla, non ci misero.» «Ma che Dio parli con le bestie, meglio che con gli uomini, non mi pare si posso mettere in dubbio.» «Se si consideri che le bestie, quando però non siano in qualche rapporto con gli uomini, sono sempre sicure di quello che fanno.» «Meglio che se lo sapessero, non perché sia bene, non perché sia male.» «Che queste sono malinconie soltanto degli uomini, ma perché seguono obbedienti la loro natura, cioè il mezzo di cui Dio si serve per parlare con loro.» «I uomini all'incontro, petulanti e presuntuosi, per voler troppo intendere pensando con la loro testa, alla fine non intendono più nulla.» «Di nulla sono mai certi, e a questi diretti e precisi rapporti di Dio con le bestie restano del tutto estranei. Dico di più, non li sospettano nemmeno.» «Il fatto è che sul tramonto, tornandosene al convento, quando lasciarono il sentiero della montagna per prendere la via che conduce alla vallata, i due giovani chierici si videro questa via impedita da un orso e un orsacchiotto.» «Era primavera avanzata, non più dunque il tempo che orsi e lupi scendono affamati dai monti. I due giovani chierici avevano camminato finora lieti, in mezzo ai lavorati già alti che promettevano un abbondante raccolto, e con la vista rallegrata dalla freschezza di tutto quel verde muovo che, indorato dal sole declinante, dilagava con delizia nell'aperta vallata. Impauliti si fermarono. Erano, come devono essere i chierici, disarmati. Solo quello di Tuenno aveva un rozzo bastone raccattato per strada, discendendo dalla montagna. Inutile affrontare con esso le due bestie. Distinto per prima cosa si voltarono a guardare indietro in cerco d'aiuto o di scampo, ma avevano lasciato poco più su soltanto una ragazzina che con un frusto badava a tre porcellini. La videro che si era anch'essa voltata a guardare verso la vallata, ma senza il minimo segno di spavento cantava lassù, agitando mollemente quel suo frusto. Era chiaro che non vedeva i due orsi. I due orsi che pure erano lì, bene in vista. Come non li vedeva? Stupiti dell'indifferenza di quella ragazzina, ebbero per un attimo il dubbio che o quei due orsi fossero una loro allucinazione, o che lei già li conoscesse come orsi del luogo, addomesticati e innocui, perché non era in alcun modo ammissibile che non li vedesse. Quello più grosso, ritto là e fermo a guardia della strada, enorme contro luce e tutto nero, e l'altro più piccolo che si veniva pian piano accostando dondolante sulle corte zampe, e che ora ecco si metteva a girare intorno al chierico di Plavon, e a mano a mano girando l'annusava da tutte le parti. E il povere giovane aveva alzato le braccia come insegno di resa, e per salvarsi le mani, e non sapendo che altro fare, se lo guardava girare attorno, con tutta l'anima sospesa. Poi a un certo punto, lanciando uno sguardo di sfuggita al compagno, e vedendosi pallido in lui come in uno specchio, chissà perché, si fece tutto rosso e gli sorrise. Fu il miracolo. Anche il compagno, senza sapere perché, gli sorrise. E subito i due orsi, alla vista di quello scambio di sorrisi, come se a loro volta anch'essi si fossero scambiati un cenno, senz'altro tranquillamente se ne andarono verso il fondo della vallata. La prova per essi era fatta, e il loro compito assolto. Ma i due chierici non avevano ancora capito nulla. Tanto è vero che lì per lì, vedendo andar via così tranquillamente i due orsi, restarono per un buon tratto incerti a seguire con gli occhi quell'improvvisa in attesa ritirata. E poiché essa, per la naturale goffagine delle due bestie, non poteva non apparir loro ridicola, tornando a guardarsi tra loro, non trovarono da far di meglio che scaricare tutta la paura che si erano presa in una lunga, fragolosa risata. Cosa che certamente non avrebbero fatto se avessero subito capito che quei due orsi erano mandati da Dio per mettere il loro coraggio alla prova e che perciò ridere di loro così sguagliatamente era lo stesso che ridersi di Dio. Se mai una supposizione di questo genere fosse passata per la loro testa, piuttosto che a Dio, per la paura che si erano presa, avrebbero pensato al diavolo che all'uno e all'altro aveva voluto farla mandando quei due orsi. Capirono invece che era stato proprio Dio e non il diavolo perché videro i due orsi voltarsi alla loro risata, fieramente irritati. Certo, in quel momento i due orsi attesero che Dio, sdegnato da tanta incomprensione, comandasse loro di tornare indietro e punire i due sconsigliati, mangiandoseli. Confesso che io, se fossi stato Dio, un Dio piccolo, avrai fatto così. Ma Dio grande, aveva già tutto compreso e perdonato. Quel primo sorriso, per quanto involontario, dei due giovani chierici, ma certo nato dalla vergogna di avere tanta paura, loro che, dovendo fare i missionari in Cina, saranno imposti di non averne, quel primo sorriso era bastato a Dio, proprio perché è nato così, inconsapevolmente, nella paura, e aveva perciò comandato ai due orsi di ritirarsi. Quanto alla seconda risata, così sguaiata, era naturale che i due giovani credessero di rivolgerla al diavolo, che aveva voluto far loro paura, e non a lui, che aveva voluto mettere il loro coraggio alla prova. E questo perché nessuno meglio di Dio può sapere per continua esperienza che tante azioni che agli uomini, per il loro corto vedere, paiono cattive, le fa proprio lui per i suoi alti fini segreti, e gli uomini, invece, credono scioccamente che sia il diavolo.